formazioni tedesche. Anche in questo caso ci tengo a far presente che ufficiali che non avevano ancora capito come si facesse la guerra c'erano sia da una parte che dall'altra. In ogni caso, al termine della mattinata del 22 agosto, la posizione dei francesi lungo la Sambre era insostenibile. Notando uno sbandamento nelle linee nemiche, nel pomeriggio il generale von Boulow ordinò ai suoi di contrattaccare per respingere definitivamente i francesi che iniziarono a ripiegare. A differenza però di quanto successo in Lorena e nelle Ardenne, le forze germaniche non riuscirono a cogliere il momento. I reparti tedeschi erano stanchi, avevano subito anche loro gravi perdite a causa degli audaci contrattacchi francesi alla baionetta. Le truppe della Repubblic riuscirono quindi a indietreggiare con ordine, mantenendo una certa coesione. Alla sera del 22 agosto, al generale Lanzerac arrivarono altre notizie sconfortanti. L'angolo della linea difensiva, ovvero Namur, stava iniziando a cedere, mentre a sinistra aveva perso contatto con gli inglesi, a causa della ritirata delle unità francesi che dovevano mantenere il collegamento col BEF. La giornata del 22 agosto fu un bagno di sangue. Infatti, come è precisato alla fine dell'episodio 19 dedicato alla battaglia delle Ardenne, il 22 agosto fu forse la giornata più sanguinosa della storia dell'esercito francese e della Prima Guerra Mondiale. Quel solo giorno, infatti, fra la battaglia di Charleroi e la battaglia delle Ardenne morirono 27.000 soldati francesi, record ineguagliato nel corso del conflitto. Anche se alcuni nuovi studi del Ministero della Difesa francese stanno mettendo in discussione questa macabra statistica. La notte fra il 22 e il 23 agosto, nonostante Lanzerac fosse ormai profondamente pessimista, la situazione non era però del tutto compromessa e il generale diede un ordine in controtendenza con la dottrina francese. Per la prima volta nel corso della storia della battaglia delle frontiere, un generale francese, infatti, diede ordine ai suoi di trincerarsi e preparare posizioni difensive. Al mattino del 23 agosto, una splendida giornata estiva, il generale von Boulow ordinò alla sua seconda armata teresca di attaccare per sconfiggere definitivamente i francesi e cacciarli dall'area di Charleroi. I tereschi si lanciarono all'attacco, bombardando le truppe della République con l'artiglieria e assaltando frontalmente con la fanteria. Questa volta, però, erano le forze di Lanzerac ad essere in posizione difensiva e durante tutta la mattinata riuscirono a tenere la linea nonostante il bombardamento e a respingere gli assalti delle forze teresche, stanche e elogorate dagli attacchi francesi del giorno prima. Nel pomeriggio, però, al quartier generale di Lanzerac iniziarono ad aggiungere altre notizie negative, che fecero prendere al generale francese la decisione definitiva. Prima di tutto gli arrivò la conferma che sulla sua destra la quarta armata francese del generale Longle de Carie era stata pesantemente sconfitta nella battaglia delle Ardenne e che si stava ritirando. Poi ottenne la conferma del fatto che ormai i forti di Namur avevano ceduto e che i belgi stavano evacuando la città. E poi gli giunse la notizia che anche gli inglesi sulla sua sinistra, che quello stesso giorno a pochi chilometri di distanza erano stati coinvolti nella battaglia di Mons, di cui parlerò fra poco, stavano perdendo terreno. Infine arrivò la notizia decisiva. Nello scorso episodio, mentre parlavo della battaglia di Dinan, avevo menzionato il fatto che a sud della città belga i sassoni di Fonthausen fossero riusciti ad attraversare la Mosa, ma che grazie a un audace contrattacco alla baionetta delle riserve fossero anche stati respinti fino alle teste di ponte. Ebbene, a Lanzerach, nel caos della battaglia e delle comunicazioni, che noi non riusciamo neanche a immaginare e che non daremmo mai per scontato, arrivò solo la prima parte di questa notizia, che gli fece tremare le ginocchia. Per quanto ne sapeva lui, la prima armata tedesca di Von Kluck aveva sopraffatto il BEF sulla sua sinistra, e la terza armata tedesca di Fonthausen alla sua destra aveva attraversato la Mosa a sud di Dinan e si stava posizionando dietro di lui, l'incubo di ogni generale, il tutto mentre l'angle de Carie, che avrebbe dovuto guardargli il fianco destro, si stava ritirando dopo la sconfitta delle Ardenne. L'incubo di essere circondato, alimentato anche dal grande pessimismo di fondo del generale, divenne realtà. Nonostante quel giorno i francesi fossero riusciti a resistere all'attacco della seconda armata tedesca di Von Bülow, alle 21.30 l'Hanzerach diede alla sua quinta armata l'ordine di ritirata generale. Il generale era convinto che se non si fosse mosso la sua armata sarebbe stata circondata e distrutta. Comunicò a Joffre la sua decisione, non attese risposta, e iniziò a far ritirare con ordine le sue truppe nella notte fra il 23 e il 24 agosto. Nonostante di fatto i tedeschi non fossero riusciti a ottenere una vittoria decisiva, con l'ordine di ritirata di L'Hanzerach, lo scontro a Charleroi si concluse con una vittoria strategica germanica. La ritirata della quinta armata segnò quindi il definitivo crollo delle forze francesi su tutto il fronte della battaglia delle frontiere, dalla Lorena fino al Belgio. Le perdite francesi durante la battaglia di Charleroi sono difficilmente quantificabili. Probabilmente si trattò di circa 20.000 uomini, di cui almeno 6.000 morti. I tedeschi persero invece circa 10.000 uomini, con più di 3.000 morti. L'opinione sulla scelta del generale L'Hanzerach è stata largamente ribattuta dagli storici. Alcuni ritengono che la sua scelta sia stata corretta, perché permise di salvare la quinta armata dall'annientamento, mentre altri ritengono che sia stato troppo influenzato dal suo pessimismo e che ciò abbia precluso il suo giudizio. Non essendo io un esperto stratega, a più di cento anni di distanza non me la sento di dare un'opinione su questa scelta. Adesso ci spostiamo qualche chilometro più a Ovest per parlare del battesimo del fuoco delle truppe britanniche durante la Grande Guerra, la battaglia di Mons. Il BEF di Sir John French era giunto nella zona di Mons il 22 agosto, il giorno sanguinoso dell'esercito francese. I britannici avevano marciato per giorni accolti da una popolazione festante, col morale alto e una gran voglia di affrontare e sconfiggere i tedeschi. Durante la loro marcia di avvicinamento da Mauboge, il luogo dove le forze inglesi si erano concentrate, a Mons, il fervore patriottico degli uomini del BEF era alle stelle. I soldati, infatti, attraversarono luoghi in cui in passato erano state combattute, due battaglie molto importanti e celebrate nella storia militare inglese. Malplaquet, nel 1709, dove le forze del duca di Marlborough, un lontano antenato di Winston Churchill, avevano sconfitto quelle francesi del re sole Luigi XIV, e poi Waterloo, più avanti rispetto a loro, dove nel 1815 il duca di Wellington aveva posto la parola fine all'epopea napoleonica. Nonostante l'ottimismo inglese, la situazione strategica non era molto chiara e il generale French non sapeva nulla di più di quanto sapesse l'Anserac a proposito della consistenza delle forze germaniche. Vi ricordo che a livello numerico il BEF era molto piccolo, appena 80.000 uomini, su un fronte ampio circa 43 chilometri. A sinistra di French non c'erano più forze con cui coordinarsi, mentre a destra doveva cercare di mantenere contatto e coesione con la quinta armata francese di L'Anserac, che stava combattendo duramente a Charleroi. Gli inglesi non lo sapevano, ma davanti a loro c'era l'intera prima armata tedesca di Von Kluck. Le forze di French si schierarono a nord di Mons, prendendo posizione in difesa del canale che più a est si collegava col fiume Sombra. Il primo contatto fra inglesi e tedeschi avvenne in un paesino di nome Suagne, dove uno squadrone di cavalleria britannica in ricognizione si trovò faccia a faccia con uno squadrone di Ulani, una specialità di lanceri della cavalleria leggera tedesca, impegnato sempre nella ricognizione. I due gruppi di cavalieri si trovarono per caso uno di fronte all'altro nel centro del paese, e sul momento non capirono di aver di fronte il nemico. Si scrutarono per qualche istante, e quando i tedeschi capirono di aver di fronte gli inglesi, girarono i cavalli e iniziarono a fuggire. I cavalieri britannici sguainarono le loro sciabole, spronarono i loro destrieri e si lanciarono all'inseguimento per le viuzze di Suagne. I cavalli inglesi dovevano essere più veloci, perché i britannici raggiunsero gli Ulani tedeschi e li impegnarono in corpo a corpo, sciabole contro lance. Nel combattimento tre o quattro cavalieri tedeschi vennero uccisi, mentre gli altri abbandonarono le lance e si diedero alla fuga. Senza subire perdite, la prima schermaglia a Suagne fu molto galvanizzante per gli inglesi. Purtroppo per loro, però, il grande scontro che stava per iniziare avrebbe avuto un esito molto meno positivo. Gli uomini del BEF si trincerarono lungo il canale, di buon umore e convinti di avere di fronte una forza numericamente alla pari. In realtà Von Kluck schierava contro di loro più della metà dell'intera prima armata, anche se aveva tenuto alcune forze in riserva, oppure per guardarsi le spalle dai belgi che si erano ritirati ad Ambersa, che potevano sempre costituire una spina nel fianco. In ogni caso, i tedeschi erano il doppio degli inglesi a Mons. La battaglia iniziò la mattina del 23 agosto, in contemporanea all'attacco tedesco a Charleroi, qualche chilometro più a est. Il cielo era limpido e faceva molto caldo. Era la prima volta dai tempi della guerra di Crimea del 1853-1856 che dei soldati inglesi combattevano su suolo europeo. Alle nove del mattino l'artiglieria tedesca iniziò a bombardare le linee britanniche e la fanteria germanica si lanciò all'assalto dei ponti per attraversare il canale di Mons. Gli attacchi furono particolarmente violenti in una zona precisa del fronte, dove un'ansa del canale creava un saliente fra le linee inglesi. Nel linguaggio militare, un saliente non è altro che una zona della propria linea che, a causa della sua forma convessa rispetto al proprio fronte, risulta più esposta agli attacchi nemici, che possono colpirla da due o da tre lati. Il generale Von Kluck individuò questo settore debole del fronte inglese e concentrò l'attacco in questa zona, poco più a nord del centro di Mons. Nonostante però la violenza del bombardamento tedesco, gli inglesi tennero bene la linea. Gli uomini del BEF erano volontari professionisti, con un addestramento teoricamente migliore rispetto ai soldati di leva francesi e tedeschi, nonostante fossero ovviamente mancanti di esperienza di combattimento. Inoltre, l'addestramento della fanteria britannica era noto per dare particolare risalto alla precisione di tiro. Fu proprio il tiro precisissimo dei fucilieri inglesi che nella mattinata del 23 agosto miettè molte vittime fra i reparti tedeschi che avanzavano allo scoperto verso il canale di Mons. Coordinando il fuoco dei fucili, delle mitragliatrici e dell'artiglieria campale, il BEF tenne bene la linea per la prima parte della mattinata, impedendo alla prima armata tedesca di ottenere risultati significativi. Nella seconda parte della mattinata, l'esercito imperiale cercò di sfruttare al massimo la superiorità numerica e il miglior addestramento tattico, cominciando a mettere in difficoltà gli inglesi. I tedeschi infatti iniziarono a far manovrare i propri reparti sui fianchi e a coprire l'avanzata dei fanti con le mitragliatrici. Le unità tedesche cercavano di avvicinarsi al canale sfruttando la copertura garantita dai boschi della zona, e inoltre l'artiglieria pesante germanica continuava a martellare il saliente del canale. Poco a poco gli uomini del BEF iniziarono a cedere terreno di fronte a una pressione sempre più costante. Il generale French sapeva bene che alla propria sinistra non c'era nessuno che potesse coprirlo, mentre a destra ormai il contatto con la quinta armata francese di Lanzerac si stava perdendo, esponendo il BEF a rischio di essere accerchiato dalle superiori forze tedesche. I combattimenti sui fianchi, per evitare di essere aggirati, diventavano sempre più violenti e anche nel settore centrale alcuni ponti cominciarono a essere conquistati dai tedeschi. Il ponte di Nimi, uno di quelli attorno al quale avvennero i combattimenti più intensi, venne conquistato dai tedeschi grazie al coraggio del soldato semplice Oscar Niemeyer. Il ponte di Nimi era un ponte proteggirevole, con un meccanismo che naturalmente gli inglesi avevano bloccato per impedire ai tedeschi di passare. Niemeyer si tolse le armi, si tuffò nel canale e lo attraversò a nuoto, arrivando dall'altra parte non visto dai britannici. Una volta a terra, il soldato azionò il meccanismo del ponte, che poté quindi essere attraversato dai suoi compagni. Nel corso di questa azione, Niemeyer venne ucciso e per il suo coraggio divenne il primo soldato tedesco della Grande Guerra ad essere decorato postumo con la Croce di Ferro, una delle più alte onorificenze militari germaniche. In quello stesso settore, due soldati britannici vennero invece decorati con la Victoria Cross, la più alta onorificenza inglese. Si trattava del tenente Dees e del soldato Gadley, che, adoperando delle mitragliatrici, tennero a bada i tedeschi permettendo ai loro compagni di ritirarsi. Dees morì a causa delle ferite, mentre Gadley venne catturato. Verso le 15, la situazione tattica e strategica del BF divenne insostenibile. Le manovre tedesche rischiavano di aggirare le truppe di French, e dal poco che gli inglesi sapevano sulla situazione di Lanzerac alla loro destra, sembrava che anche i francesi stessero perdendo terra.